Salve, io sono Jacopo in artefralapo ed oggi ti mostrerò come migliorare la tua connessione internet tramite un tool che ti seleziona i migliori dimensi da utilizzare. Apri il link in descrizione e scarica il tool in questione. Estraire l'archivio sul desktop, ritroverai questa cartella con dentro l'eseguibile. Ritroverai questa schermata, puoi decidere se applicare il cambio di DNS su tutte le schede di rete o selezionarne una specifica. Qui ti compare l'elenco dei vari DNS e a sinistra troverai 4 pulsanti. Il primo per applicare il DNS selezionato, il terzo per pulire il DNS applicato e quindi ripristinare tutto allo stato principale. Mentre il secondo serve per trovare il DNS più veloce in base alla tua connessione. Ti ritroverai tutto l'elenco dei DNS e con il tasto destro puoi selezionare tutti o deselezionare tutti. Tramite selezioni turbo ti mostrerà soltanto i DNS molto più veloci rispetto agli altri. sensori. Per avviare il testo clicchiamo sul pulsante avvia test DNS. Ecco qui che viene mostrato il DNS più veloce da utilizzare. quindi chiudiamo e andiamo a selezionare il DNS per poi cliccare su applica DNS. Ecco qui che il DNS è stato modificato con successo. Prendo il menu opzioni possiamo cambiare la lingua, vedere gli aggiornamenti e le impostazioni generali. Grazie a tutti.